guanti blu in lana dell'armée francaise probabilmente della marina non riportano indicazioni interne tranne che per un piccolo tagliandino in cui è riportato pura lana le indicazioni per il lavaggio che sono trattati mitin lano lana molto robusta solida indossabilità questi che vediamo non sono una taglia molto piccola caldi comodi modello molto semplice con polsino elasticizzato conservati molto bene ottimo guanto molto caldo in inverno grazie a tutti